E' stata presentata nella sala giunta di Palazzo San Giacomo la Saces Mappei di Che Napoli, unica squadra cittadina che quest'anno approda alla Serie A1 del basket femminile italiano. Le qualità tecniche delle atlete, guidate dal coach parmigiano Sandro Orlando, sono già note nel panorama nazionale e dopo la conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione, la squadra rinnova le sue ambizioni anche nella massima categoria. E' una cosa bellissima per Napoli, non avendo il grande palcoscenico per la maschile che speriamo che venga presto raggiunto, la femminile ci dà onore e prestigio per questo campionato di A1 femminile e la società interpreta perfettamente sia la mentalità sia la volontà di fare grandi cose, so di sicuro che non hanno dato spese nella composizione del roster, quindi mi auguro e spero, ma sono anche fiducioso che diano veramente grande lusso alla nostra città. Oltre ai tesserati per l'attività agonistica, la Diche Basket Napoli coinvolge circa mille bambini in corsi di mini basket e altrettanti studenti in progetti scuola nella provincia. All'impegno per lo sport, la società affianca infatti iniziative nel campo sociale e anche attività culturali. Le ragazze sono esempio della tenacia, dei valori e del protagonismo sano dei ragazzi della città di Napoli. Lo sport è lo strumento più forte per lavorare nella nostra città attraverso la trasformazione delle sue debolezze in punto di forza e quindi è l'augurio del sindaco e della città tutta a queste ragazze, al gruppo sportivo che oggi con questa conferenza stampa vogliamo rappresentare. L'impianto di gioco, il Palavesuvio, è stato più volte ristrutturato dalla società che ne ha la gestione e lo ha reso un vero e proprio gioiello dello sport.